Per l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo del Molise, Giuseppe Caporale, il 2019 è stato un anno più che soddisfacente, facendo registrare un utile d'esercizio di 2,8 milioni di euro e disponibilità liquide di 8,5 milioni, un valore della produzione arrivata a circa 50 milioni di euro, che ha portato ad un aumento rispetto al 2018 del 24%. La crescita è stata determinata quasi esclusivamente dalla capacità di vincere i progetti, partendo dalla regione Abruzzo, arrivando poi in tutto il mondo, tant'è che il Fondo Sanitario Nazionale è invariato ormai da anni e anni a 21 milioni di euro, ma cresce la nostra capacità di attirare fondi qui nella nostra regione vincendo i progetti e siamo arrivati a sfondare quota 50 milioni. Numeri importanti per l'Istituto Terramano che ha fissato come prossimo obiettivo la costruzione della nuova sede, che nascerà nella frazione Terramana di Colletterato Alto. Proprio qui dietro alle nostre spalle verrà la nuova sede, ormai siamo proprio arrivati, speriamo che al massimo in autunno ci sarà la posa della prima pietra. Questa è parte degli investimenti, ma grandi investimenti li facciamo in termini di tecnologia, per il quale siamo sicuramente all'avanguardia e sul reclutamento di nuove professionalità. Grande lavoro messo in campo dall'Istituto anche sul fronte del coronavirus, diventando un centro di riferimento per le analisi sui tamponi. Siamo partiti in questo sistema diagnostico per i tamponi da coronavirus, siamo arrivati a 80 mila tamponi refertati, 60 mila circa per conto delle asle della regione Abruzzo. Non abbiamo più i ritmi di 1.500, 1.800, anche 2.000 al giorno, ne facciamo 5, 600, 400 a seconda di quelli che arrivano, ma continueremo a farlo e sicuramente questa attività durerà per tutto il 2020.